Cos'è cambiato con Franca? Credo che il Miss in questa settimana ci abbia dato delle indicazioni importanti. Senti, certamente si è visto che qualcosa è cambiato, quello che però non cambia sono i risultati. Purtroppo è arrivata un'altra sconfitta, una situazione particolarmente pesante. Che sensazioni hai? Se con un nuovo allenatore sia più facile uscire da questa situazione? No, ma non è questione di nuovo allenatore. Secondo me è questione proprio nostra. È questione che domenica abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Mi hanno messo sotto il trapane che è seconda in classifica. Noi dobbiamo prendere coscienza delle nostre qualità. Secondo me alla lunga ne usciremo perché abbiamo tutte le qualità per farlo. Questa cosa qua però, perdonami, io alla lunga ne usciremo. Io ricordo l'anno scorso, l'anno scorso sentivo le stesse parole, poi ne siete usciti al 94 dell'ultima partita. Voglio dire, siete consapevoli del fatto che comunque è una situazione abbastanza... Sì, è normale che anche la partita di domenica non era una partita facile. Sapevamo la forza del trapane. Credo che bisogna prendere le cose positive di questa partita. Non bisogna pensare sempre negativo. La situazione non è facile, però c'è ancora tempo per uscirne. Le partite si stanno assottigliando, il campionato sta per finire e c'è soprattutto un dato di cui tenere conto. Il fatto che adesso di partite in casa, non è che il Catanzaro abbia fatto bene in casa, però di partite in casa se ne giocheranno poche. Cosa ti spaventa di più se c'è qualcosa che ti spaventa di questo finale di campionato e su cosa bisognerà concentrarsi? Paura non ne ho sinceramente, anche perché io vengo da due annate dove lì c'era veramente bisogno di avere paura. Non penso, penso che sono delle partite come tutte le altre, sono partite difficili, sia in casa che fuori casa. Però se noi giochiamo per come dobbiamo giocare, i risultati arrivano. Penso questo. Senti, riguardo a te, dal mio punto di vista, questa è una mia considerazione personale, secondo me con questo tipo di gioco puoi esprimerti meglio. Hai compiti decisamente diversi rispetto a quelli che ti assegnava Dionigi. A questo punto queste ultime 8 partite per voi saranno importanti anche per te, immagino? Prima bisogna pensare alla squadra, riuscire ad ottenere 40 punti, 40-41, quelli che servono per avere la salvezza. E poi a fine anno si tireranno le somme di quello che è successo durante l'anno. Ho fatto bene, ho fatto male, penso che alla fine conta. Conta anche in base a quello che la squadra riuscirà a fare. Perché se magari riesci a salvarti e a centrare magari qualcosa in più, tutto si cancellerà, tutto quello che è stato in passato. Quindi bisogna pensare veramente solo a noi e alla partita. Sì, però anche come ha detto il direttore nuovo, il direttore sportivo, insomma in questo momento tutti quanti, anche i colori quali hanno il contratto, tu sei uno di quelli, siete tutti su filo, insomma siete tutti, come posso dire, vi dovete guadagnare la riconferma, certo. Ma ogni anno è così, anche se hai 2-3 anni di contratto non vuol dire nulla, devi sempre dimostrare in campo. Quindi penso che per ognuno di noi, chi ha un anno, chi ha scadenza, chi ha altri 2 anni di contratto non vuol dire niente. Senti, stiamo a sentire, adesso arriva questa trasferta difficilissima ad Andria, sarà una battaglia, sarà una partita difficilissima, molto diversa rispetto a quella contro il Trapani probabilmente. Ci dovrete anche mostrare personalità, cosa che purtroppo non sempre siete riusciti a fare, no? È normale, bisogna andare a giocare in un campo difficile, loro stanno lottando per la salvezza, credo che bisogna trovare i giusti atteggiamenti, quello che abbiamo fatto anche domenica. Bisogna essere concentrati dal primo all'ultimo, secondo me è quello che ti fa fare la differenza in questa categoria, essere uniti e tutti insieme. Si giocherà probabilmente molto meno a pallone, molto più... Poi vediamo domenica, magari andiamo lì e loro sembrano il Barcellona, quindi non è questo. Il discorso è, andiamo lì e dobbiamo essere concentrati tutti sul pezzo e dimostrare prima a noi stessi che siamo una grande squadra. E dobbiamo essere... dobbiamo dimostrare questo, secondo me. Un'ultima cosa, più conto di una curiosità di parte mia, fisicamente come ti senti? Come stai? No, domenica un po' verso il 75 sono così, ero arrivato un po' al limite, anche perché era un mesetto che non giocavo. Quindi è normale che poi il primo caldo, quindi ho sofferto un po'. Però all'inizio stavo bene. Te lo chiedo perché si dice che tu sia un po' sovrappeso, che sia un po' fuori forma, dimmi un po' come hai inveceato questo. No, no, adesso è da due settimane che non ci pesiamo, però tutto a posto. Penso che sono riuscito a perdere quel chiletto che avevo in più. Niente. Ok, grazie.